Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Ieri è iniziata la dodicesima legislatura regionale. Noi continuiamo nel nostro spazio a conoscere più da vicino i protagonisti eletti dagli abruzzesi per il nuovo Consiglio. Ospite nei nostri studi è il consigliere di azione Ennio Pavone. Buonasera Pavone. Buonasera, buonasera. Azione per la prima volta, del resto è una giovane formazione politica e legge in Consiglio regionale. Lei è stato molto prudente, scaramantico quasi nell'attendere la proclamazione ufficiale da parte della Corte d'Appello degli eletti prima di rilasciare dichiarazioni, questa è una delle sue prime interviste. All'indomani di una giornata ha segnato il varo di una nuova legislatura e anche della nuova giunta regionale. Ne parleremo ma per ora facciamo un salto indietro di un mese. Per valutare, adesso un po' più a freddo, qual è stata l'indicazione arrivata dagli abruzzesi, che hanno confermato Marco Marsilio, la metà degli abruzzesi non è andata a votare, è un campo largo che ha avuto qualche difficoltà più a livello nazionale, devo dire, che abruzzese nei giorni successivi. Qual è la sua valutazione sul risultato elettorale in Abruzzo e anche quello di azione suo personale, Pavone? La valutazione generale, come diceva lei, è l'effetto del campo largo, questo campo largo certo non è compito mio, non sono io quello che prenderà le decisioni su quale sarà il futuro delle alleanze del centro-sinistra nazionale, però vedo un'enorme difficoltà un po' da tutte le parti, quindi probabilmente va rivisto, va rivisto in maniera diversa. Abbiamo avuto delle difficoltà, anche se sotto la guida del professor Luciano D'Amico, secondo me si è recuperato molto, perché io penso che qualche mese fa il divario era ancora più importante. In realtà la partita si è giocata nelle tre province più o meno, tranne l'Aquila, dove evidentemente c'è stata una differenza sostanziale che poi è quello che ha causato di fatto la sconfitta, sconfitta piuttosto non come si pensava nei termini iniziali, ma comunque con un vantaggio piuttosto evidente da parte del centro-destra e di Marsiglia. Per quanto riguarda la posizione di azione, noi siamo molto orgogliosi e contenti di essere riusciti, pur essendo sconfitti, uscendo sconfitti dalle elezioni regionali, ad avere eletto un rappresentante, per la prima volta, come diceva lei, ma d'altronde è un partito nato da poco, però non era neanche facile arrivare a ottenere il quorum e quindi aver avuto la possibilità di eleggere un rappresentante in consiglio regionale ed è sicuramente un motivo di grande soddisfazione per il gruppo dirigente di azione regionale e ho ottenuto anche poi questa soddisfazione personale che mi gratifica molto, è un percorso mio molto lungo, inizio nel Partito Socialista, entro in azione convintamente perché è azione trattino socialisti riformatori, ecco il Partito Socialista ritorna un po' con Ennio Pavone nel consiglio regionale dopo tanti anni con la lista di azione e, diciamo dopo aver svolto le funzioni di sindaco nella mia città, nel sede degli Abruzzi, essere anche consigliere provinciale, ecco io penso che sia forse uno dei casi unici in questo momento in Italia in cui una persona rivesta contestualmente il ruolo di capogruppo in consiglio comunale, capogruppo in consiglio provinciale e capogruppo in consiglio regionale. È vero, è vero. Facevo riferimento, quindi vorrei ampliare il riscorso su questo, al fatto che in Abruzzo, nonostante appunto le scaramucce nazionali che abbiamo visto nei giorni successivi, questo patto per Luciano D'Amico, diciamo, più che per una coalizione politica, abbia retto. È avvenuto anche ieri dove nel primo consiglio regionale si è avuta una posizione unitaria, sta avvenendo anche con la conferma di un candidato che proviene da azione, anche se non è più diciamo espressione del partito Carlo Sostantini per la comune di Pescara. Quindi in Abruzzo c'è uno scenario completamente diverso, questo patto reggerà oltre che la prova elettorale anche la prova di 5 anni di opposizione, di minoranza nella sua compattezza, giudicare dalle avvisaglie di ieri? 5 anni è un tempo molto lungo, bisogna vedere gli atteggiamenti e i comportamenti, noi di Azione siamo appunto, è nato un partito che è nato e a cui ho aderito convintamente perché si pone come obiettivo il superamento della contrapposizione ideologica delle due parti contendenti, centrosinistra e centrodestra, è che nei 30 anni dalla Seconda Repubblica, io ero già in politica nella Prima Repubblica, non ho visto un grande miglioramento, non ho visto neanche un grande interesse da parte dei cittadini, anzi c'è un disamore verso la politica e viene dimostrato dalle percentuali di partecipazione al voto, sempre ridotti, sempre più bassi. Quello che succederà dipende, credo che l'autorevolezza del professor Luciano D'Amico sicuramente permetterà di tenere unita questa coalizione se ci sarà l'adeguato e il dovuto rispetto di tutte le componenti. Se qualcuno penserà di fare un sol boccone di tutto, evidentemente questo non avverrà e questo avviene anche soprattutto nel rispetto, come diceva lei, anche delle competizioni a livello amministrativo locale dove Azione rivendica giustamente il rispetto politico dovuto a una formazione che oggi ha un ruolo importante nella regione Abruzzo e che addirittura in certe province diciamo che è decisivo per le elezioni amministrative che avverranno l'8 e il 9, per esempio il 9 di giugno, per esempio penso giustamente al comune di Pescara in cui Carlo Costantini è un rappresentante di Azione che adesso ha dovuto uscire dalla lista di Azione per le note vicende che conosciamo, ma comunque è di Azione e così anche per esempio in certi comuni importanti della provincia di Teramo da cui provengo, penso a Giulianova, a Silvi, ad Atri, a Mociano, ci sono i comuni importanti e in provincia di Teramo Azione è al centro della politica provinciale, poiché esprime l'unico parlamentare della provincia di Teramo nella persona di Giulio Sottanelli, siamo decisivi e determinanti nella maggioranza al Consiglio provinciale e esprimiamo un Consiglio regionale, governiamo anche la città più importante del territorio che è la città di Roseto degli Abruzzi, quindi evidentemente questa coalizione regge in Abruzzo a prescindere da quello che avverrà magari a livello nazionale, anche se poi chi fa parte di un partito evidentemente deve eseguire anche quelle che saranno le direzioni nazionali del partito, ma questo avverrà se l'autorevolezza di Luciano D'Amico permetterà di avere rispetto adeguato a tutte le componenti che formano questo patto, ieri sono state delle votazioni in Consiglio regionale, la coalizione ha retto, tutti hanno fatto il loro dovere, erano i primi passaggi, erano le nomine dell'ufficio di presidenza, ecco io mi auguro e sono certo che allo stesso rispetto ci sia anche adesso che si andranno a fare le nomine delle commissioni e poi a indicare anche i rappresentanti nelle società partecipate, insomma tutto quello che tocca. Pari dignità tra alleanze, invece nell'alleanza che governa la regione, è stato il suo primo giorno da consigliere regionale, ma anche dal suo curriculum sappiamo che lei conosce molto bene la politica, la vive da anni, che impressioni si è fatto sui rapporti interni alla coalizione di Marsiglio nei primi passaggi sulle scelte delle cariche istituzionali del Consiglio, ma anche sulle nomine e non nomine tra giunte e sottosegretari con le relative ripercussioni, riunioni che si sono protratte fino, come si dice, al fischio d'inizio della partita in aula. Premesso che è complicato per tutti chiudere queste cose dopo una vittoria, ma trovare la sintesi di tutte le aspettative, perché sono tutte personalità importanti, considerando anche il fatto che è quello che dicevo prima, che nella seconda Repubblica il ruolo dei partiti praticamente scomparsi, tranne alcuni, ma sostanzialmente sono scomparsi, non c'è più quella democrazia all'interno dei partiti che c'era comunque nei limiti della prima Repubblica e quindi c'erano delle indicazioni e ognuno si adeguava. Oggi ognuno gioca una partita personale o semi-personale, quindi è evidente che ognuno aspira ad ottenere il massimo. Ho visto Musilunghi, evidentemente, ma era normale, conosco gran parte dei consiglieri regionali, li conosco sia direttamente molti, ma anche per conoscenza, faccio parte anche da 8-9 anni del direttivo regionale dell'Anci Abruzzo, quindi nell'ambito regionale conosco le persone, gli atteggiamenti, anche la storia che è avvenuta negli ultimi 15-20 anni e quindi anche certi atteggiamenti tenuti ieri in consiglio regionale al momento della votazione del Presidente mi sono piuttosto normali. Ricordiamo, due franchi tiratori nella prima votazione, un'assenza, quella pesante, quella di Paolo Gatti al momento della quarta, anche se poi episodi che sono stati ridimensionati, ma soprattutto mi pare ci sia questa mancata nomina dei sottosegretari che tenga in fibrillazione in particolare i rapporti tra Forza Italia e la Lega. Sì, è evidente che, ripeto, ricucire, mettere a posto tutti e dare soddisfazione a tutti anche per Marco Marsilio che comunque è stato il primo a essere rieletto Presidente nella regione e quindi ha l'autorevolezza per farlo, però non è semplice, certo, i posti sono pochi, le aspettative sono tante e evidentemente anche i rapporti di forza sono cambiati notevolmente, se pensiamo che cinque anni fa la Lega aveva dieci consiglieri regionali, oggi ne ha due, cioè dieci o due, non è una cosa di poco. Altri partiti sono cresciuti nel panorama del centrodestra, però sono questioni loro dove francamente a me, diciamo, oltre che essere uno spettatore, non posso dare né consigli né ho interessi a darlo. C'è però un tema su cui lei si è molto speso in campagna elettorale che sarà, suppongo, uno dei primi dossier che adesso riprenderà in mano da una postazione più prestigiosa, autorevole da protagonista, parlo del Borsacchio, ci spiega che cosa sta succedendo? Perché non è facile anche spiegare ai telespettatori, all'opinione pubblica a che punto è questa vicenda tra ricorsi, contro ricorsi, leggi da modificare o meno, che fine farà la riserva del Borsacchio? È una storia complessa e complicata, l'ho vissuta quasi interamente, sono in Consiglio Comunale dal 1997, la storia del Borsacchio nasce nel 2005-2006, nasce male secondo me perché nasce appunto in una notte, anche quella è una notte in cui si delineano dei confini in una legge finanziaria per impedire di fatto un intervento turistico ricettivo sulla zona costiera di Roseto degli Abruzzi, successivamente passano tanti anni perché si identifica una zona, un'area prima di 110 ettari, poi di 1100 con errori di trascrizione o meno, non si capisce bene, di fatto sostanzialmente però non vengono attuate quelle che sono le misure attuative per una riserva, il comitato di gestione per esempio e quindi per anni avendo agito nel rispetto delle norme di salvaguardia, dal punto di vista dell'operatività la più rigida interpretazione tra il piano regolatore e le leggi che disciplinano invece le riserve, di fatto quella zona per 7-8 anni che abitava in quella zona non poteva fare neanche le manutenzioni ordinarie, poi nel 2011 quindi neanche i tetti si poteva aggiustare, questo ha creato evidentemente una certa tensione negli abitanti soprattutto nella zona collinare di Cologna, successivamente nel 2011 il sindaco Pavone, io stesso, quindi attivammo delle procedure, abbiamo dato l'incarico per redigere il piano di assetto naturalistico, ho nominato il comitato di gestione e poi ho perso le elezioni nel 2016 e quindi si è arrivato a questa adozione del piano di assetto naturalistico, l'abbiamo sostanzialmente adottato dalla giunta di Gironamo nell'ultima seduta, quindi nel 2020-2021 e quindi poi avevamo tutta la procedura delle osservazioni che sono state completate, nel momento in cui il Consiglio Comunale stava mandando alla Regione tutte le osservazioni che hanno state presentate dagli avventi di diritto dei cittadini che noi non vogliono fare, è arrivata una notte una cosa, uno che ha annullato tutto e è riportato nei 24 ore, adesso per quello che ne so e per quello che ho capito io, come dice lei è una cosa piuttosto complessa, ma sostanzialmente questa legge non ha rispettato i crismi costituzionali che prevede un'operazione del genere, la prima soprattutto è quella di coinvolgere i territori locali, quindi il comune di Rossetto degli Abruzzi e quindi il Ministero l'aveva impugnato, l'aveva mandato al governo per impugnarlo di fronte alla Corte Costituzionale, poi il Presidente Marsiglio per evitare ciò ha detto la rivedremo noi, quindi io credo che adesso la palla torni di nuovo alla Regione, che il Presidente si è impegnato a rivedere questa sua scelta di ridurre 24 ettari, quello che era di 1100, perché altrimenti sarebbe scattata la procedura che il governo era obbligato. E lei sarà lì a vigilare su questo? Noi saremo lì e vedremo di uscire da una situazione che permetta a quella città, la città di Roseto e anche alla Regione Abruzzi di avere una riserva davvero attuata, vivibile e che non sia solo un'indicazione sulla carta. Grazie, grazie Ennio Pavone, abbiamo capito con lui anche quale sarà una delle sue prime battaglie in Consiglio regionale e naturalmente torneremo domani alla stessa ora con i nostri appuntamenti politici legati alla nuova legislatura. Grazie e buonasera.